E' grande facciata, come diceva la ragazza prima, grande facciata esterna e io la farò a destra, quindi il movimento è questo. Questi detti che fanno, non di centinaia, ma di un milione e di un milione, visto che sono 24 anni di locale. Quindi ora abbiamo visto una decina indietro, dove lui basca indietro, a destra, perché io sono destra, attacco a destra. Ora farò una tecnica in avanti e a sinistra, che è tra la torscia, ma veramente è questa. In questo caso, voi vedete la velocità, ma lui non si fa male, perché è tutto quello che viene fatto. E' un po' di timore, ma in realtà... E' un po' di timore, ma in realtà... Vi ho fatto vedere la tecnica a destra e avanti e una indietro, cioè o solo cari e taglio torscia. Ora vi ho fatto vedere la tecnica a destra e taglio torscia. Ora vi ho fatto vedere la tecnica indietro e taglio torscia. Una tecnica avanti. Si alena così. Grazie. 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 questo movimento qua in realtà è una quattro centrisima e se l'adversario sta fermo e io mi sposto lo squalco cascherà di sicuro ci sono due forze uguali e contrari io vado di qua faccio questo passo quando vado in una direzione e vado a un altro direzione questo non voglio restare negli argomenti